Così chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la situazione, ma i loro sforzi non sono andati a segno. La nostra telecronaca termina qui. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. È stato un onore, come sempre. Grazie. 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 Grazie.